Michele Bisegna, da dove ripartiamo? Da quel tuo calcio di punizione in semifinale che ha preso l'incrocio dei pali contro il Pineto? Si riparte da lì perché poi di fatto l'obiettivo dell'Avezzano del prossimo anno sarà fare meglio di un risultato già straordinario come quello dell'anno scorso? Beh oddio, ripartire da lì è dura. Meglio ripartire da zero, cioè con la conferma di tutta la squadra che è stato veramente il colpo dell'anno secondo me perché riconfermare in blocco tutti gli over della squadra è veramente un colpo eccezionale da parte della società. Prendere giocatori importanti tipo Jonathan e Alessandro che hanno un curriculum che parla da solo. Quindi ripartire più che dal calcio di punizione dalla partita fatta perché è stata una partita veramente giocata benissimo, una partita fatta dove noi siamo stati padroni del campo tutta la partita però poi vai a vedere il risultato, 2-0 vedi, chi non vede la partita pensa tutt'altro. Invece è stata una grande prestazione che ha dimostrazione che questa squadra è forte e lo dimostrerà anche l'anno che sta per iniziare. Ecco i sei mesi ad Avezzano ti hanno visto, possiamo dirlo, un bisegno anche un po' 2.0, trequartista, centrocampista, l'anno prossimo avrà Gianpaolo la possibilità di schierarti in varie zone del campo. Tu come ti sei trovato? Ma io benissimo, dico la verità. Poi era già un'evoluzione che era partita con Epifani, le ultime di campionato a San Nicolò, giocando anche playoff centrocampista centrale. Poi l'anno scorso quando sono tornato il mister mi ha parlato e mi ha detto guarda Michele, io ti vedo più centrocampista, ho detto benissimo, mister, sono la persona più profice del mondo, infatti mi trovo veramente bene e dico la verità spero di giocare lì, quindi sono molto contento di questo nuovo ruolo perché mi piace, mi piace molto e speriamo bene. C'è la consapevolezza che l'Avezzano che sarà in astri di partenza della prossima Serie D, probabilmente l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà all'inizio dal punto di vista della conduzione tecnica che quest'anno non avrà e allora di conseguenza è, non la mettiamo magari in pole position, in prima posizione, ma insomma alle primissime file c'è. Sicuramente, dopo quello che è stato fatto e dopo il mercato di quest'anno possiamo soltanto che ripartire da lì, cioè dal terzo posto e migliorare la posizione, anche perché c'è stato anche questo problema di inizio stagione quando io non c'ero e comunque vari allenatori, le cose, si sono perse almeno 4-5 partite dove si poteva fare meglio e quei punti alla fine se li vai a sommare a quelli totali potevi giocarti qualche cosa di più. Le altre come le vedi, le avversarie? Chi stai vedendo che si sta muovendo bene? Ma dico la verità, ho visto più di qualcuna che si sta muovendo bene. Già la Reganatese aveva una squadra importante l'anno scorso e adesso sta finendo di allestirla. La Vastese è partita bene, ha fatto 3-4 colpi importanti, so che si si muove bene anche la Sangiustese, so che un po' di squadre si muovono, sicuramente non saremo noi unici a giocarci il campionato e c'è sempre poi l'outsider che viene fuori alla fine e magari può rovinare i piani, però sicuramente noi stiamo là. Grazie.